Tu sei l'amore che trasforma Vieni, Spirito Santo 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 Grazie a tutti. 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 Su questo argomento, i primi due brani sono del ventitresimo volume e i secondi, come vedremo, sono tratti dal volume 24. Cominciamo. La lettura, 8 marzo 1928, volume 23. Grazie a tutti. 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 bellissimi, in parte rinasco, insomma, nel senso che una delle caratteristiche più belle che io ho riscontrato in questi scritti, tra l'altro profondamente biblica, non potrebbe non essere diversamente, insomma, quindi è questa immagine bella, autentica, vera di Dio. Se uno legge questi primi righi, guardate, i primi quattro righi, c'è il termine o il verbo godere che ricorre per tre volte. La nostra paterna bontà, dice Gesù, creò l'uomo per tenerlo sulle nostre ginocchia, per godercelo continuamente e per godere lui in modo perenne col suo creatore. Quindi, cioè, tutti gli uomini cercano in tutti i modi possibili i godimenti, i divertimenti, i piaceri di stare bene. Ma Dio ci ha creato per questo. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Molta gente pensa che la vita cristiana, che la fede, la vita della chiesa, è una noia, è una barba, insomma, se mi avvicinano al Signore, poi bisogna fare le rinunce, poi bisogna fare i sacrifici, qualcuno dice che bisogna addirittura fare pure qualche penitenza, qualche digiuno, quindi chi lo sa che sarà, insomma. Che buia vita, che vita buia, per carità. Invece uno sta nel mondo, si diverte, va al cinema, va al mare, va ai monti, cioè mangia, beve, dorme, va al pub, si prende una birra, si diverte, insomma, no? Che vita più leggera, più tranquilla, insomma, no? Questa è una menzogna, una bugia, non è vero, non è vero, d'accordo? Perché Dio ci ha creato per goderci, per godersi noi continuamente e perché noi potessimo godere Lui in modo perenne e godere veramente, d'accordo? Perché quello che ci attende nel paradiso è una visione beatifica, quello che i santi andavano c'è, da rinformarsi, insomma, da santi e da esperti del mondo soprannaturale. Andiamo a chiedere a chi ha visto la Madonna, insomma, se una cosa del genere è una cosa bella o brutta. Quindi questa immagine di Dio, quindi come colui che questo voleva e questo continua a volere, attenzione, non è che non lo vuole più, il buon esito di quello che era il suo desiderio è andato frustrato a causa nostra. E non è che Dio ha demorso, ha desistito, continua a cercare di donarci questo perché il dono della divina volontà non è altro che una nuova chance, una nuova possibilità di tornare a vivere in questo modo, di riavere la possibilità di accedere a quei doni, a quelle grazie, a quei contenti, a quei trastulli che Dio vuole dare, voleva dare all'uomo e ad ogni uomo e che si è trovato impossibilitato a dare solo a causa del volere umano. Cioè, sentire un'espressione, noi perdemmo la felicità di vedere il nostro figlio felice. Io quando sento queste cose sono pure contento perché quando mi capita di parlare del peccato come offesa di Dio, io avverto sempre, proprio come punto fondamentale, questo. Cioè, tu hai dato a Dio il dolore di vederti infelice, perché se fai il male, questo è, hai tolto a Dio la gioia di poterti vedere felice, ma anche di potersi godere la felicità della creatura, perché Dio sebbe goduto della nostra felicità. Perché l'amore gode della felicità dell'altro. Cioè, questo è un luogo, se lo sappiamo anche noi esseri umani, no? Così come l'invidia che è formalmente il contrario dell'amore, l'invidia di che cosa gode? Gode della tristezza dell'altro, d'accordo? E si intristisce invece se l'altro è felice. Questa è la cosa bruttissima che è l'invidia, no? Questo è Dio, noi crediamo in questo Dio. Ecco perché non è mai troppo quello che si dice su Dio amore, su Dio misericordia, anche se non bisogna, come dire, ridurre questi discorsi a, come dire, a quelle pesantucce, ecco, a riefritte, insomma, nel senso che quando uno non sa che dire, basta che dice che Dio amore e misericordia non si sbaglia mai, insomma, no? Ecco, e a volte anche spropositano su queste cose, ma sentire queste parole, che tempi felici per lui e per noi, cioè qual è il cuore di Dio, qual è il desiderio di Dio, qual è l'essenza profonda di Dio, qual è la molla che ha mosso Dio a creare, no? Cioè io che sto parlando, tu che stai ascoltando, abbiamo un essere individuale, specifico, proprio, cioè io sono vivo, tu sei vivo, cioè ci sei, d'accordo? Dio l'ha fatto e ti ha fatto per qualche cosa di bello, non ti ha fatto, cioè Dio non ci ha creato per soffrire, no, no, non ci ha creato per il dolore, non ci ha creato per essere disperati, non ci ha creati per la morte, ecco perché è profondamente biblico, l'ipote della sapienza dice Dio non ha creato la morte, non ci ha creati per la morte, non gode della rovina dei viventi, non è affatto contento. Dio ha creato tutto per l'esistenza, si legge l'ipote della sapienza, le creature del mondo sono sane, in esse non ci avveriano di morte, la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Il diavolo è invidioso nei nostri confronti in che senso? Lo sappiamo, no? Il diavolo si è avvelenato proprio di questo amore di predilezione che Dio ha dato all'uomo ancora prima della creazione, perché voi sapete che ancora prima della creazione era decretato che il verbo divenisse uomo, non angelo. Cioè, questo va a ti imbestialire il diavolo, perché tu nobiliti in questo modo la razza umana inferiore a quella angelica e non diventi un angelo come me. E quindi di questa grande gioia di cui tra l'altro oggi non gli importa niente a nessuno, adesso tra poco ricomincerà l'Avvento e il Natale, ora faccio una bella predica da prete bacchettone, diciamo così, però che sono che deve fare. Quindi ricomincerà l'Avvento e il Natale, cioè dove va bene qualcuno che si ricorda che è Natale comincia a fare corse a regali e cenoni. Dove va male non si può neanche dire auguri di buon Natale, perché se no ci offendono i non credenti. Quindi dovremmo, bisognerà trovare le frasi sostitutive, poi ricominceremo con le commedie, non si può fare il presevo a scuola, non si può fare l'arma, non si può fare questo, perché se no, le solite stupidaggine che si vivono. Ma a chi è che gliene importa veramente qualcosa? Cioè che Dio ti ha nobilitato fino al punto di farsi uomo. Cosa che sarebbe avvenuta anche se non avessimo peccato, cosa che sarebbe avvenuta anche se Gesù non avesse dovuto poi in un secondo momento, in una seconda battuta, fare anche da Redentore. Io sinceramente tante cose che si sanno anche, più o meno, insomma, su Dio, no? In questi scritti tu le vedi vive, le vedi reali, viventi, perché le vedi espresse, insomma, da Gesù con una profondità, con una verba, pregnanza di linguaggio che ti rilasciano nel cuore. Io quando sento queste cose, ne rimango edificato, cioè Dio vuole godersi di me. È felice della mia felicità. Vuole a me farmi godere in modo perenne col mio creatore, già da questo mondo, a me. Vuole avere la felicità di vedermi felice, a me. Cioè, capite? Personalizziamo sempre questo. Questo non è un discorso che vale soltanto per Adamo, no? È una bella cosa questa qui. È davvero una bella cosa. E chi ci ha fatto perdere tutto questo? Chi ha dato a Dio questo dolore? La follia del volere umano. Il volere umano sottentra e porta nell'uomo l'amarezza e porta nell'uomo la tiragia delle passioni più degradanti di cui se ne fa l'esperienza in questo mondo. Tanto da renderlo tanto infelice da far pietà. Io vorrei tanto, ecco, pensiamo, tra tutte quante le persone che noi conosciamo, tra tutte le persone che vediamo in giro, tra i nostri familiari, i nostri parenti, ma pensa anche, pensiamo anche a noi stessi. Noi conosciamo una persona, ma proprio felice. Ma non è che dice, ma sì, come va? Non c'è male, abbastanza bene, non ci lamentiamo. Oggi, ma quando... Ma tu conosci il felice? No, ne so proprio felice. Ma sto come una Pasqua sto. E non è che sto come una Pasqua oggi, perché ieri ho vinto al superenalotto, quindi oggi sono contento, poi domani ricomincio a averci il musulù. No, no, questo è un atteggiamento stabile, abituale. Io sono felice. Dove stanno? Dove stanno le persone felici. Da renderlo tanto infelici, da fare pietà. Guardate che il Vangelo sarà nuovamente credibile. Quando il mondo vedrà persone felici, quando una persona è felice, tu te ne accorgi. Tu te ne accorgi. Pensiamo a tutti quanti i ministri di Dio che abbiamo conosciuto. Non abbiamo conosciuto ministri di Dio, per esempio, felici, che se vede che sono proprio felici dopo quello che stanno a fare. D'accordo? Dice, ah ma il prete, poverino, sto sempre da solo, fa tante rinunce. Ma di che dicono a Roma? Che te rinunce? Che co? Che dici? Allora, questo è il primo brano di questa sera. Andiamo a vedere il secondo. Sempre breve, ma vedremo anche questo. Intenso assai. Figlia mia, tutta la mia vita nascosta, 11 marzo 1928, sempre volume 23, è così lunga, 30 anni di vita nascosta ha fatto Gesù, non fu altro che il richiamo del regno della mia volontà divina sulla terra. Quindi richiamare questa divina volontà, questo significa, a regnare sulla terra. Perché sulla terra non ci regnava più. Perché la dama ha detto, no, no, qui la terra è mia, regno io. È la mia volontà che regnerà sulla terra e sulla mia persona. Questo è successo con il peccato originale. Allora, qui sta sta divina volontà sul pianeta Terra. Doveva tornare in qualche modo a regnarci oppure no? E dove è tornato? In Gesù e in Maria. 30 anni di vita nascosto. Perché? Cioè, noi questa è una domanda che non dobbiamo, come dire, chiederla perché. I perché non devono essere sbattuti in faccia al Padre Eterno in tono sfidante, provocatorio. Oppure per dire, no, tu adesso mi devi rispondere a sto perché. Tuttavia è lecito, anzi in alcuni casi è buono, in altri è opportuno, in altri è doveroso farsi qualche domanda. 30 anni di vita nascosta. Ma sono proprio tanti, sono. Contro tre anni di vita pubblica. Ma qualcuno ci può spiegare questa cosa, insomma, no? Dice sì, Gesù voleva pregare, voleva, l'ho detto tante volte anche io, ed è indubbiamente una cosa vera, no? Quindi con questo voleva far comprendere quanto è più importante la preghiera rispetto all'azione, cosa che tanto dentro la testa nostra non c'entra questa cosa qui, eh. Non ci entra, eh. Non ci entra. Guardiamo le reazioni che ci sono anche in giro, dinanzi a situazioni problematiche. Quanti sono quelli che fanno un sacro silenzio, sacro silenzio e cominciano a pregare, anziché a fare chiasso, rumore, umore, tempeste, bufere, polemiche, micce, fuoco e fiamme. Dove sono quelli che tacciono e pregano? Dove sono? 30 anni di vita nascosta contro tre anni di vita pubblica. Ma non è solo per questo, non è solo per il primo anno della preghiera. Gesù dice io dovevo richiamare il regno della mia volontà divina sulla terra. Adesso leggo fino alla fine e poi torniamo con qualche considerazione. Volevi fare in me tutti gli atti che dovevano fare le creature in essa per poi porgerli a loro. E io vogli fare insieme con la mamma mia. Lo vogli fare. la vogli sempre insieme nella mia vita nascosta per formare questo regno. Due persone avevano distrutto questo regno del mio Fiat divino. Adamo e Eva. Altre due, io e l'altezza della sovrana regina dovevamo rifarlo. Sicché prima pensai al regno della mia volontà divina, perché la volontà umana era stata la prima ad offendere la mia a consottrarsi ad essa. Tutte le altre offese venivano in secondo grado come conseguenza del primo atto. Anche questo brano, brevissimo, ma è a mio avviso, modestissimo avviso, ma non importante, di più, molto di più, importantissimo, bellissimo. Allora, trent'anni di vita nascosta con Maria, l'altra rimessa in condizione come i nostri progenitori, l'altra avente il dono della divina volontà. Che cosa hanno fatto? Allora, il discorso è di una semplicità estrema. Si chiama il regno della divina volontà sulla terra. Ora, perché noi diciamo nel Padre nostro, adveniat regnum tum. Se diciamo al Signore venga il tuo regno, che significa? Che sulla terra il regno non ci sta. Adveniat regnum tum. Non c'è. Allora, quando è che un regno c'è? Quando il re ha un territorio, d'accordo? E ha dei sudditi che gli obbediscono. Non si può dire, non lo so, è venuto il regno dei Longobardi, invasioni barbariche, prima che mi viene in mente, se i Longobardi non fanno l'invasione dell'Italia non si stanziano dentro Roma. Il regno dei Longobardi, senza manco che cos'è. Magari i Longobardi possono pure essere esistenti da qualche parte, ma io non conosco il regno dei Longobardi fino a quando questi non lo stanziano, non lo instaurano su un territorio e con dei sudditi, che sono i propri o quelli conquistati in virtù militare, della forza militare. Allora, il regno dei Longobardi non c'è mai stato? Se non nei primi tempi, non sappiamo cosa specificare, almeno io per ora non ho numeri, non so se gli iscritti ci stanno perché devo ancora completare la lettura integrale di tutti gli iscritti. T'ho a buon punto, insomma, non ho letto, diciamo, due terzi, insomma, di tutta quanta l'opera, ma non posso ancora affermare con certezza che non ci siano riferimenti cronologici agli anni in cui Adamo si è vissuto prima del peccato originale. In ogni caso, sto regno poi era altro che Zago Graal, regno completamente perduto. Allora, questo regno sulla Terra doveva tornarci, quindi, e doveva tornare, che si doveva avere, degli uomini su cui esercitare il proprio divino, soave, ma dominio. Quindi due cose hanno fatto Gesù e Maria. Uno, hanno, come dire, hanno posto le fondamenta di sto regno. Sto regno è cominciato con due sudditi, due, Gesù e Maria. I primi, perché il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, in quanto uomo è stato il primo suddito della divina volontà. Altro che, qui lo dico sempre, che monotelismo, perché la sua volontà umana è stata in continuazione sacrificata ai divini voleri, fusa, unita. Attenzione, però, Gesù e Maria non hanno fatto questa cosa solo per sé. Quindi, va bene, facciamo tornare il regno della divina volontà sulla Terra. Io e te facciamo i bravi ragazzi, facciamo tutto quello che Dio vuole, ci mettiamo dentro questo regno e poi verranno gli altri. No, no, perché Gesù è agito come capo stipide dell'umanità nuova. Quindi, come tutti gli atti degli esseri umani erano tutti concentrati e presenti in Adamo, così lo sono in Gesù Cristo. Ma Gesù Cristo tutti i nostri atti li ha tutti quanti rifatti. Cioè, tutti gli atti che io, Leonardo Pompei al Comune, d'accordo? Leonardo Maria Pompei al Battesimo, Don Leonardo Maria Pompei dopo l'Ordine Sacro, d'accordo? Tutti gli atti che io avrei dovuto fare da quando sono stato concepito, fino a quando morirò. Nella divina volontà li ha rifatti tutti il nostro Signore. Cioè, la mia vita è stata, come dire, rifatta dall'A alla Z, dal Signore quando era sulla Terra. E questo non vale soltanto per la mia vita. Chi sta ascoltando queste cose, al posto di Leonardo Maria Pompei, ci mette il suo nome. Tranquillamente. Tranquillamente. Da un punto di vista oggettivo, quindi, la mia vita è stata non solo completamente evidente e riscattata, ma anche santificata al massimo possibile, perché Gesù i miei atti li ha fatti e li porge a noi. Li porge a noi, sapete, ne ho parlato nel ciclo di Catechesi approfondito, ho fatto su Radio Buon Consiglio prima di questo secondo grande ciclo di Catechesi sulla divina volontà, che c'è un esercizio, diciamo così, fondamentalissimo da fare, che è proprio il rifare i nostri atti nella divina volontà, cioè prendersi del tempo attraverso gli esercizi ovviamente interiore spirituali, per rifare tutto ciò che nella nostra vita è stato malfatto. Non basta rifarli perché ci vuole la confessione, prima. La confessione in generale, anche in certi casi. Ecco. Ma la confessione in generale non va, possiamo andare oltre, perché la confessione ti rimette la colpa, la penitezza ti rimette parte della pena temporale, ma tu comunque tutto le cattive inclinazioni, tutto il cante delle cose, li porti dietro. Se uno va a prendere gli atti di Gesù Cristo, tutti quelli che ha fatto, li sostituisce ai nostri malsani, semplicemente prendendoli, questo è un esercizio interiore. Come dire, distrugge, neutralizza anche tutta quanta la portata nefasta, negativa delle azioni commesse, il carico che si portano, e riscatta completamente la propria vita davanti a Dio. È bellissimo. E Gesù spiega, due persone avevano distrutto il regno del Fio addivino, Adam e Deva, e due persone lo hanno riportato sulla terra. Da quel momento in poi il regno è potenzialmente estendibile a tutti, solo che nostro Signore ha fatto passare del tempo, 1900 anni di redenzione, senza, pur chiedendolo noi ogni giorno al Padre nostro, che ci fosse nessuna liberazione chiara ed esplicita su questo mistero della Divina Volontà. So già due o tre volte che cito il Padre Nostro, non vorrei rientrare un'altra volta, come già fatto magari si dì ieri mattina, nell'ambito Padre Nostro, insomma, e non per dire che tante questioni mi sembrano un pochino esagerate, d'accordo, è che nella Santa Madre Chiesa Cattolica quello che diventa legge della Chiesa, giusto o sbagliato che sia, non entriamo neanche nel merito. È diventato legge della Chiesa? Sì. Nella Chiesa ci sono delle persone che sono preposte al governo di essa? Sì. Sono i Vescovi, con a capo il successore di Pietro? Sì. Fanno qualcosa che potrebbe non essere perfettamente gradito al nostro Signore, ammesso e non concesso che lo sia? Facciamo finta di sì. E' un mio problema questo qui? Il mio problema non lo è, d'accordo? Il problema è che eventualmente abbia fatto una cosa di questo genere. Insomma, io se fossi stato alla conferenza episcopale italiana del 13 che votò favorevolmente per chiedere al Papa l'indulto di far fare la comunione in mano, io se stavo lì avrei che avrei votato di no, però comunque sia andata, la maggioranza dei Vescovi ha espresso parere positivo, il Papa l'ha autorizzato, io non sono entusiasta di questo fatto qui, ma vivendo nella Chiesa si prende atto di quello che c'è nella Chiesa e si va avanti. Si può certamente a tempo, luogo, in modo opportuno, sempre con garbo, sempre con dolcezza, formulare i propri rilievi critici. Io rimango liberissimo di non essere perfettamente allineato, come dire, con una concordanza profonda con questo tipo di opzione. Se un fedele mi chiede un consiglio, io gli posso tranquillamente dare un consiglio, spiegandolo, lasciando però il fedele libero in coscienza, come deve essere, di mettersi davanti al Signore e fare a lui le sue scelte e sapere come regolarsi. Mi raccomando, per chi desidera vivere nella Divina Volontà, io penso che alcuni capisaldi debbano essere abbastanza... la ribellione, la rivoluzione, la disobbedienza. Cioè, io chiedo scusa, ma per quel poco ho provato a conoscere della Divina Volontà, questa non è roba che appartiene a questo mondo. Ma noi ce lo vediamo, il nostro Signore o la Madonna, ma ribellarsi, di sobbetire. Quindi niente fino alla morte e alla morte di Croce. La Madonna che stava sottomessa a San Giuseppe, Gesù, stava loro sottomesso, ci dice l'Angelo di San Giuseppe e Maria. Capite? Bene, questo per quanto riguarda il commento al Padre nostro. Cioè, noi adesso poi vedremo insomma alcune cose, no? Cioè, io penso che quando noi facciamo una scelta, un itinerario, cioè, desidero entrare nel mondo della Divina Volontà, desidero vivere nella Divina Volontà, benissimo, ma teniamo ben presenti alcuni fondamenti chiari. D'accordo? Chiari. Perché è stata la disobbedienza a distruggere il regno della Divina Volontà. Cioè, il problema del peccato originale è che se non si è obbedito, perché il costitutivo formale del peccato originale è proprio la disobbedienza. Dio aveva detto, fate tutto meno che questo. Sul cosa sia questo, non c'entriamo in merito, io l'ho fatto già tante volte, eccetera. Ma un ordine è stato dato. E il diavolo, attenzione che ha fatto l'Eba, che non doveva essere ascoltato, sul fatto che quell'ordine era sbagliato, e si è sbagliato pure il Padre Eterno. Che non era un ordine dato per la vita, ma era un ordine dato per la morte. Questo è quello che il diavolo ha fatto credere a l'Eba. Cioè, facciamo sempre molta attenzione, perché il diavolo purtroppo esiste. Qui la colpa è del volere umano, ma il diavolo è intelligente, con il diavolo non bisogna parlarci, né tantomeno. Anche in vista di buoni risultati, veri o presunti, o di buone battaglie, ecco, San Paolo scrive nelle sue lettere, combattere la buona battaglia della fede, ma non si possono usare armi sataniche. Non è possibile. Satana non si combatte con Satana. Ricordiamolo sempre questo. Io racconto sempre un episodio che si vede, tra l'altro, nel film di Padre Pio, interpretato da Sergio Castelitto. si vede la persecuzione contro Padre Pio ebbe, diciamo così, una miccia iniziale dal Vescovo Dio Cesano, che cominciò a emanare una serie di primi piccoli provvedimenti restrittivi. Ma il Vescovo di Manfredonia si diceva e sembrava, insomma, essere abbastanza provabile, perché non è che fosse tutta quanta questa gran santità. E mi fermo qui, per ragioni di carità, essendo questo un video pubblico. Quando dissero a Padre Pio che ma guarda qua chi è che ti accusa, questo, ma lo facciamo nero? Padre Pio la prese a schiaffi e gli ha detto come vi permettete di parlare in questo modo di un Vescovo della Chiesa? Come ti permetti tu? Satana non si combatte con Satana. Vattene via. È chiuso il discorso. Questo l'ha perseguitato a Padre Pio, ingiustamente. E non aveva titolo per farlo, perché era, a se non, attenzione, quello conferitogli dall'Altissimo con l'autorità episcopale che gli ha dato. Capito? Se uno diventa Vescovo, ti piace o non ti piace, quello è Vescovo. Ok? E a Dio non piace che tu ti metti a fare il matto nei confronti del Vescovo. Sta proprio tranquillo. Cioè, su questo, se usciamo da questo, allora, uno potrà tranquillamente uscire da questo. Poi però non vado a dire in giro che vuole entrare nel mondo della Dina Volontà. Non vado a dire questo qui. Non vado a dire questo. Non sono compatibili le due cose. Su questo io sono assolutamente, cioè, sarà la mia opinione personale, ma non mi muovo manco un millimetro, eh. Non sono compatibili le due cose. O è l'una o è l'altra. O è l'una o è l'altra. Padroni, ovviamente deve fare la guerra contro il Vescovo? Per carità, cioè, ci esiste il libero arbitrio, d'accordo, ma non mi venire a dire che stai tu, o che fai la guerra al Vescovo in nome della Divina Volontà. Dico, ma, ma stiamo bene, stiamo. Cioè, siamo sempre abbastanza, ecco, quindi, se non sono chiari alcuni parametri di base, guerre, rivoluzioni, cose di questo genere qui, alzate di scudi, che io sappia, non sono mai state, come dire, sottoscritte, avallate, approvate, incoraggiate, da nessun santo canonizzato, che ha fatto sempre esattamente il contrario, e ha sempre sortato a fare il contrario senza nessun dubbio. Ok? Quindi, l'opera di Gesù e di Maria, il rifare, è stato un rovesciamento di Adam e Eva. Qui mi permetto, per chi volesse approfondire, di andare ad ascoltare le catechesi fatte recentemente in una trasmissione, ancora tirata a un buon consiglio, che si chiama De Maria Nunquansatis, dove l'ultimo argomento che ho affrontato, ieri ne è cominciato un altro, è stato Maria Corredentrice. Ma per parlare della Corredentrice ho dovuto spiegare la redenzione, che cos'è la redenzione. E come la redenzione sia un rovesciare, un fare il contrario di tutto quello che Adam ha fatto. Per cui Adamo disobbediente, ubbidiente fino alla morte, alla morte di croce. Cioè, l'ubbidienza che ha dovuto fare a Gesù è stata un'ubbidienza atroce, inumana per certi aspetti. altro che sottomesso a tutti, a tutti, condannato a morte, calpestato, vilipeso. Cioè, lo stile di chi vuole essere suo discepolo, lasciamo perdere la divina volontà, è questo, è. non c'è insegnato altro Gesù. Le pecorelle sono pecorelle. Non c'hanno gli artigli, non c'hanno le zanne per sbranare il prossimo, sono pecorelle. sono pecorelle, inermi, certamente sono anche prudenti come i serpenti, mando come pecore e mezzarubi, ma anche semplici come le colombe, però. Quindi, per concludere, un passaggio fondamentale è la comprensione che questo regno della divina volontà è così importante che Gesù ci ha perso, tra virgolette, 30 anni del suo tempo su 33. Perché? Perché attraverso la sua umanità e quella di sua madre la divina volontà potesse, come dire, riabituarsi a stare con gli uomini, perché si era un po' dimenticato com'era lo starci lo starci vicino. Ma non solo. Gesù doveva rifare tutti gli atti di tutte le persone presenti, passate, future, che a causa del peccato originale non avrebbero fatto tutte le cose che sarebbero dovute essere fatte e che adesso il Signore ce le ha fatte e ce le offre, ce le offre, rifare, vogli rifare in me tutti gli atti che dovevano fare le creature in essa per poi porgerli a loro. Gli devi andare a prendere, gli devi fare i tuoi attraverso l'esercizio interiore. Cioè, la vita nella divina volontà ricordiamo sempre che richiede l'esercizio interiore di tante cose, i giri, andare a prendere gli atti della divina volontà, farli nostri. Molta gente non capisce bene queste cose qui perché non sa neanche lontanamente cosa sia la vita interiore, cosa sia l'interiorità. Cioè, io con una preghiera, con un moto del mio pensiero mentale, influisco me e fuori di me. San Giovanni Paolo II quando parlava della dimensione sociale del peccato, nell'esortazione apostolica posti inodale le conciliazze e penitenzie, diceva un peccato di pensiero che rimane chiuso nel cuore di un fedele fa male a tutta la Chiesa. Andatela a leggere. Ed è vero questo qui. Ma come? Ma io sto a fare un pensiero nel senso che faccio un pensiero impuro, faccio un pensiero cattivo su una persona, la giudico interiormente, la distruggo interiormente. Questo fa male a tutta la Chiesa? Sì, questo fa male a tutta la Chiesa. E un atto nella Divina Volontà? Se anziché fa un pensiero cattivo su una persona dico signore mio metto il mio ti amo nel cuore di questo fratello che mi sembra che si sia scomportando male però chi sono io insomma per mettere il dito ci mettiamo un bel ti amo e ti faccio pure un'aria maria per la sua conversione. C'è differenza tra questi due atti? Non sono bissoce? Allora, volevo leggere siamo già in dittura d'arrivo il terzo capitolo di oggi che stavolta è il volume 24 lo primo aprile 1928 figlia mia certo che non c'è sicurezza senza una prova e quando l'anima resiste alla prova riceve la conferma dei miei disegni e tutto ciò che le necessite e conviene per svolgere lo stato più chiamato da me perciò voglio provare Adamo per confermare il suo stato felice e il diritto di reso tutta la creazione e siccome non fu federe nella prova per giustizia non poteva ricevere la conferma dei beni che voleva darle il suo creatore perché nella prova l'uomo acquista il sugello della fedeltà il quale lo mette nel diritto di ricevere i beni che Dio aveva stabilito di dargli nello stato in cui l'anima veniva chiamata da lui chi non è provato si può dire che non ha nessun valore né davanti a Dio né davanti agli uomini né davanti a se stesso Dio non può fidarsi di un uomo senza prova lui stesso cioè l'uomo non sa che forza ha un desiadamo avesse resistito alla prova tutte le umane generazioni sarebbero state confermate nel suo stato felice e di regalità questo brano è bellissimo è molto 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 istruttivo a mio modestissimo parere ed è questo il valore formativo soprannaturale ma anche umano della prova la prova dice a te stesso oltre che a Dio chi sei le prove scritte degli esami cioè io come faccio a sapere se tu hai assimilato le cose che sono stato oggetto di studio nel corso dell'anno o degli anni devi darmene una prova devi fare un compito rispondere ad un interrogatorio l'interrogazione la prova è come dire è fondamentale c'è un'assunzione ad un contratto di lavoro spesso c'è il periodo di prova fammi vedere chi c'è davanti perché c'è davanti una scanza fatica uno che non è buono a far lavoro io non l'assumo e io questo non lo posso sapere a priori d'accordo allora c'è qualcuno Gesù sicuramente dirà queste cose anche perché c'è qualcuno tra le solite persone che parlano un po' troppo precisipitosamente senza ponderare bene quello che dicono che addirittura scarica la colpa a Dio del peccato ma se Dio avesse saputo che l'uomo peccava non l'avrebbe dovuto crearlo per niente sparando quindi e mettendo Dio sotto il banco degli imputati ma non funziona così non funziona certo l'uomo in Adamo ha perso molto le generazioni seguenti hanno perso molto ne è venuta la redenzione sono stati grandissimi santi nonostante quello che ha fatto Adamo valeva la pena non creare perché il capo Stivide stesso avrebbe combinato un guaio le cui conseguenze negative avrebbero negativamente influenzato le generazioni noi non siamo dannati e condannati d'accordo perché altrimenti certo siamo segnati questo sì siamo tarati questo sì ma è arrivata la redenzione è arrivata la grazia di Cristo è avvenuto poi anche la possibilità di andare ancora più a fondo nella grazia quindi recuperando almeno parte del paradiso perduto e della vita dispersa da parte dei nostri progenitori questo Gesù l'ha fatto ci ha messo in condizione di poterlo fare allora Dio non si fida di una persona che non sia provata basta leggere in questi giorni stiamo leggendo a messa le lette alle sette chiese nel libro dell'Apocalisse ci sono dei passi in cui Gesù dice oi tu sei stato messo alla prova ma la prova non l'hai superata è stato trovato mancante vedi le date una regolata vedi le date una smossa vedi le date una una conversione Dio non si può fidarsi di un uomo senza prova lui stesso l'uomo stesso non sa che forza ha la prova di Davo non era così difficile perché lui poteva fare tutto meno che una cosa per noi è un pochino ecco questa prova era necessarissima altro che perché Dio doveva vedere se poteva fidarsi di Adamo e Adamo doveva conoscersi e Adamo doveva liberamente esercitarsi per conservare per sé per tutti i beni ricevuti purtroppo così non è stato ed era giusto che per confermare il suo stato felice di diritto su tutta la creazione era giusto perché capite Dio comincia ad eragire i suoi beni gratuitamente e per amore però poi vuole che ce ne rendiamo degni con giustizia e per giustizia Gesù qui dice voglio provare Adamo per confermare il suo stato felice e il diritto di re su tutta la creazione e siccome non fu fidere nella prova per giustizia non poteva ricevere la conferma dei beni che voleva dare il suo creatore cioè quello è stato riempito di doni fatto principe del mondo Dio doveva dire ma questo ne è degno è capace bene mettiamogli davanti un video e vediamo se si dimostra fedele o infedele Adamo la prova non l'ha superata a un punto non l'ha superata e questo ha comportato dei dei guai grossi nella prova invece l'uomo acquista il suggello della fedeltà il cuore lo mette nel diritto di ricevere i beni che Dio aveva stabilito di dargli nello stato in cui l'anima veniva chiamata da lui quindi Dio ha dice San Paolo predisposto stabilito una serie di cose grosse per ciascuno di noi ma non te le dà se non vede che si può fidare di te e vede cioè la prova che Dio si può fidare di noi è la nostra reazione appunto dinanzi a tutte le forme possibili attuali adesso non siamo più tempi della mediteva di prova di prova se l'uomo nella prova dà buona testimonianza di sé quindi pensiamo al caso di Giobbe no? come si ripete c'era una negna che si ripete come un martello esprimente nei primi capitoli di Giobbe in tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di giusto cosa è successo a Giobbe alla fine ha riavuto mille volte cioè tante volte di più rispetto a quello che aveva che Dio piano piano li ha tolto cosa sarebbe successo a Giobbe se anziché reagire come era agito avesse messo Dio sotto processo e si fosse ribellato e si fosse messo a fare il fuori di testa sicuramente non quello che descrivono gli ultimi capitoli della Genesi vorrei leggere anche l'ultimissimo che è proprio quattro righe che è sempre il volume 24 4 1928 Adamo si sottrasse alla nostra volontà divina per contentare la sua umanità e con ciò si ordinò tutto perdette il suo stato d'origine e Dio dovetti fare la stessa via scendere in una umanità per riordinarlo di nuovo e tutto ciò che feci in essa doveva servire come rimedio medicina esempio specchio luce per poter mettere in ordine l'umanità decaduta attenzione anche a questo punto attenzione a questo punto Adamo ha voluto far contento la sua umanità mettendo tutto in disordine e Gesù ha dovuto fare il contrario questo l'abbiamo già visto attenzione però questo contrario serviva uno a riordinare il tutto nell'umanità di Cristo attenzione al concetto di ordine questo l'ho detto tantissime volte che è un altro dei capisaldi della divina volontà nella divina volontà non c'è di sordi c'è ordine ordine dobbiamo approfondire molto questo 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 punto ordine ed equilibrio sono due capisaldi fondamentali della vita della divina volontà per cui tornando agli esempi fatti prima esempi di Galateo ecclesiale non è ordine d'accordo che una conferenza episcopale prende una decisione io non sono d'accordo e faccio il finimondo non è ordine questo no no se c'è qualcosa di profondamente valido da scrivere da esporre nel merito va bene facciamo una letterina a qualche congregazione alla santa sede e si esprimiamo insomma quello che noi pensiamo basta questo è quello che ordinatamente si può fare se è un problema reale e basta attenzione che però che in questa operazione di riordinare di nuovo Gesù si propone a noi come rimedio come medicina ma attenzione anche come esempio e come specchio le nostre azioni noi possiamo specchiarci in Gesù sapete che lo specchio riproduce la stessa identica immagine di chi Gesù si specchia quindi che Gesù è il mio specchio significa che quello che Gesù ha fatto detto in me si vede si riproduce noi siamo così che Gesù è esempio e io su questo qui non posso cioè quando mi muovo non mi chiedermi ma Gesù farebbe questa cosa non con le idee bislacche che io non posso essere fatto ma con lo stile che lui ci ha mostrato e ci ha insegnato attraverso i Vangeli canonici farebbe questa cosa la Madonna farebbe questa cosa la Madonna direbbe questa cosa noi questo dobbiamo saperlo perché altrimenti si possono prendere una montagna di cantonate quindi cosa significa questo discorso che dentro la vita nella divina volontà c'è anche la considerazione del fatto che Gesù si propone non solo come restauratore e come salvatore quindi come salvatore nell'opera della retenzione e come restauratore della vita nella divina volontà perduta ma lui ha percorso una strada che ci lascia esempi autorevolissimi di come ci si deve comportare e a cui ci si deve ispirare necessariamente chiediamoci prima di fare una cosa prima di scrivere qualcosa prima di dire qualcosa prima di fare qualcosa farebbe il Signore questo e in questo modo e in questo tempo questi sono soltanto spunti suggestioni che abbiamo a noi qui interessa di iniziare a viverci nella divina volontà Gesù fa capire le dinamiche in cui vediamo la persa e noi dobbiamo porre in attimo in atto dinamiche completamente contrarie se vogliamo recuperarla e iniziare a viverci appuntamento ragazzi alla prossima settimana vi lascio le mie benedizioni nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen a tutti i Santa Notte Fiat Ave Maria